tanto che clamoroso veramente, davvero clamoroso, qua in studio, qua in studio, non qua da membro, in studio a porta a porta sono stati resi noti dei dati che hanno causato un po' il panico per quanto riguarda quelli di ceto sinistra ma no, non è possibile, ma noi sapevamo altro invece fino a qualche giorno fa, qualche giorno fa cambia l'ira di Dio in qualche giorno, capito? in qualche giorno cambia veramente l'ira di Dio, ok? Quindi ci sono stati alcuni del PD a porta a porta che sono rimasti molto perplessi, cioè erano in parità assoluta, addirittura in vantaggio ma di che cosa sto parlando? Sto parlando a besse a voi delle elezioni in Liguria, in alto insieme per i 100 mili iscritti e della Dalla Capparella per ogni aggiornamento di cuore grazie a ognuno di voi che nel giro veramente di qualche giorno erano, anzi, nel giro di qualche settimana Orlando del centro sinistra è in vantaggio su Bucci, e questo lo sapevamo tutti fino a qualche giorno fa invece è pareggio, 46, poi c'è chi diceva 3%, 4% e invece, ultima ultima, ultimissima, pensate un po', adesso Bucci è in vantaggio, non di troppo, ma ha superato quasi dell'1% ormai secondo i dati ufficiali che ha mostrato Bruno Vespa a porta a porta e il collega, tra virgolette, anche se stavano per menà, se vi ricordate c'è ancora il video, Orlando e sarebbe clamoroso, sapete perché? Perché dopo Toti, dopo lo scandalo Toti, un scandalo comunque nel centro-destra Toti, centro-destra, eccetera, eccetera, o che rivinca il centro-destra sul serio, sarebbe l'ammazzata per il PD e comunque per la coalizione centro-sinistra, ho detto coalizione, non campo largo, chiariamo sarebbe l'ammazzata che potrebbe portare problemi anche in Emilia-Romagna quanto è successo in studio, figuriamoci se Emilia-Romagna poi passa a destra, ragazzi oppure nevicata agosto, come direbbe Gigi D'Alessio, non so, canzone